Ciao, bentornato su questo canale, invia la tua richiesta e credi nella potenza e nella misericordia di Dio. Preghiera a Sant'Antonio di Padova, chiedendo guarigioni e miracoli per tutti coloro che hanno fede in Dio o Sant'Antonio di Padova, potente intercessore presso l'Altissimo. Guarda con amore tutti noi che in questo momento cerchiamo il tuo aiuto. Con umiltà, chiediamo la tua intercessione presso Dio, affinché tutte le malattie siano guarite e avvengano tutti i miracoli necessari nella nostra vita. Tu, che sei noto per la tua compassione e capacità di ritrovare ciò che è perduto, stendi le tue mani su coloro che sono sofferenza. Guarisci gli ammalati, conforta gli afflitti e rafforza la fede di quanti ti invocano. Sant'Antonio, prega per noi, affinché possiamo sperimentare i miracoli della grazia di Dio nel nostro cammino. La tua luce divina ci guidi e la tua l'amore e la gentilezza siano riversati abbondantemente su tutti noi. Amen. Grazie a tutti.